Ehi là, bentornati su Broken Stories. Che video complicato da fare. Abbiate pazienza, seguitemi. Il 6 agosto scorso muore Stefano Di Marino. Io ero appena arrivato in Calabria, dove mi ero fatto recapitare un libro di Stefano Di Marino. E infatti questo libro mi aspettava, era lì, per me. Non vedevo l'ora di leggerlo. Eccolo. Manuale di scrittura, action e thriller. Arrivo, apro i social e leggo che Stefano Di Marino è morto. Poco dopo leggo che Stefano Di Marino si è suicidato. Ragazzi, che botta. Beh, è difficile parlare di questo argomento, il suicidio. Forse addirittura è poco social, è poco YouTube. Ma un secondo, seguitemi. Ho il massimo rispetto della figura di Massimo Di Marino e anche di quello che ha deciso di fare. Tra l'altro il suicidio ha toccato anche la mia sfera personale. Quindi, figuratevi se lo prendo alla leggera. Ma non è di questo che voglio parlare principalmente, ma del fatto che questo uomo era uno scrittore. Uno scrittore, beh, direi di successo. Spesso i suoi libri erano in edicola, sempre presente, spessissimo sulla collana segretissima, ma poi con la sua estrema prolificità, capacità di scrittura, inventiva, talento e chi più ha, più ne ha, più ne metta. Stefano Di Marino pubblicava horror, pubblicava fantasy, pubblicava fantascienza e da, diciamo, piccole e medie case editrici fino alla più grande in assoluto. Lui era uno che spaziava. Nessuno poteva dubitare della sua professionalità, della sua capacità, del suo talento. Un vero, grande scrittore. Che naturalmente però in Italia era relegato, diciamo, al sottoscala, se parliamo di salotti, se parliamo di televisione, se parliamo di grande visibilità, era relegato al sottoscala degli scrittori popolari, palpo, sapete quegli sfigati che scrivono narrativa di genere? Quindi non meritano poi tutta questa attenzione, perché in Italia se scrivi narrativa di genere, o meglio, se scrivi quella narrativa che arriva in edicola e che parla magari di astronavi o di mostri nascosti sotto il letto, oppure di guerrieri e di guerriere che combattono contro il male, beh, allora sei nel sottoscala. Ora, questo lo sappiamo tutti. Non siamo in America qui, non siamo in Inghilterra, non siamo neanche in Polonia, dove il fantastico e la scrittura di genere invece gode della visibilità, insomma, è in edicola con delle riviste dedicate al genere, addirittura in Polonia, ragazzi. Ok? Questa è l'Italia. Perché vi dico tutto questo? Perché se scrivete, e se leggete, soprattutto se scrivete in realtà, e magari volete scrivere narrativa di intrattenimento, intelligente, ma comunque che possiamo definire di genere, voi lo sapete, che non avete la minima chance di diventare in Italia dei professionisti rispettati e soprattutto di campare, diciamo, dignitosamente del vostro lavoro. Lo sapete, se ci avete provato. Lo sapete. A un certo punto ti prende quel magone, quella rabbia. A un certo punto ti chiedi, ma chi cacchio me lo fa fare? Ora, questo vale per, diciamo, persone assolutamente e oggettivamente dotate di minor talento, capacità, dedizione, stacanovismo di Stefano Di Marino. Ora, uno dice, ma sarà mica morto perché, per motivi collegati alla sua, diciamo, a delle insoddisfazioni professionali? Ma questo non lo possiamo assolutamente dire, ma qualcuno lo ha scritto, fondamentalmente lo ha scritto. E lo ha scritto in un e-book che io ho letto in questi giorni, ed è appunto di Mariano Equizzi, e si intitola Volare, Cantare. è un piccolo pamphlet pubblicato da Delos Book, Delos Digital, e voi sapete che Delos è una casa editrice specializzata nel genere, proprio nel genere. Quindi, Mariano Equizzi, che è un filmmaker, un esperto di realtà aumentata, realtà virtuale, e che ha conosciuto Stefano Di Marino, se ho ben capito anche bene, scrive questo libro in cui, in copertina, ed è stato questo molto a incuriosirmi, c'è scritto, ve lo leggo, Stefano Di Marino ci ha ricordato che, con il suo gesto, che il sogno è bello che è morto da un'eternità, che non si può aspirare a tanto, specie se si è da soli. Ora, Mariano Equizzi, cosa fa in questo e-book, che vi metto qui in link, se volete leggerlo, costa solo 1,99 euro. Cosa fa? Fondamentalmente, senza fare né nomi né cognomi, denuncia una situazione che, come vi dicevo, conosciamo. La situazione per cui, se tu sei uno scrittore nel sottoscala, perché fai genere, perché scrivi action, thriller, fantasy, fantascienza, horror, se fai quella roba lì, e non appartieni a certe conventicole, adios, muchacho, non c'è nessuna speranza che tu esci da quel sottoscala. Perché? Dice Mariano Equizzi. Consorterie. decision maker che fanno parte di... che avranno sempre la puzza sotto il naso, verso i migliori quando non appartengono alla loro cosca, fondamentalmente. Ok? Ci sta dicendo Mariano Equizzi che Stefano Di Marino ha lottato per anni, diciamo, per fare un salto di qualità, quello che gli mancava per essere anche riconosciuto, essere riconosciuto per quello che era, cioè un enorme, straordinario storyteller, una fonte inesauribile di narrazioni, avvincenti, immaginifiche. Perché ci vuole anche questo nella vita, un po' di gratificazione simbolica. arrivato a 60 anni, Stefano Di Marino non ce l'aveva ancora. Non era riuscito a fare quel salto. E Mariano Equizzi, che per dieci anni ha lavorato nel cinema, dice di avere più volte, più volte cercato di portare Stefano Di Marino o Alan D'Altieri, un altro scrittore strepitoso, italiano. Di portarli in quegli uffici dove si stabilisce, dove si prendono le decisioni e si creano quei prodotti che poi arrivano al grande pubblico, i film fondamentalmente, le serie. E invece l'Italia continua a perdere. O comunque, finora, insomma, per lo più ha perso grandissime opportunità di emergere come fucina di storie di genere che possano piacere al pubblico, perché? Perché ha sempre il prediletto. I fratelli, i cugini, i figli, i parenti, le amanti, gli amanti di, piuttosto che il puro talento, la pura competenza. Che certo Stefano Di Marino non mancavano e questo uomo lo ha dimostrato per decenni, ma non è servito a niente. E tutto, se volete, risaputo, risaputo. E questo forse è un po' l'accusa, no? Un po' la critica che si può muovere a questo pamflet, perché non aggiunge poi in realtà granché al discorso. Non fa i nomi, non fa i nomi, perché se no si prenderebbe delle belle denunce tra capo e collo, immagino. E poi mi ha anche un po' stupito che sia uscito su Delos, che invece è proprio una collana, cioè una casa editrice dedita al genere, no? Beh, insomma, nel senso, dateci una speranza, perché qui invece c'è scritto chiaro e tondo che non c'è nessuna speranza. Ma allora perché pubblicare? Perché se questo mare del fantastico in Italia è in realtà uno stagno, uno stagno puteolente, ma che cosa stiamo facendo qui? Che cosa state facendo qui? Lo so, questo è un pamflet, questo è solo una piccola pubblicazione che, insomma, in realtà mette il dito nella piaga, lo capisco. L'attività di Delos è molto più vasta, lo so, ma insomma mi ha lasciato un po' allibito tutto questo, ve lo devo dire. Mariano Equizzi lo dice proprio a chiare lettere, cioè dice che la cultura del fantastico in Italia, dopo la straordinaria stagione dei fondatori di gente come Ugo Malaguti, come Valla, no? Se volete, Pergameno, insomma, quelli di una... Cioè, aspettate, vi dico i nomi che fa. Ah, Mongini, Malaguti, Malaguti, Lippi, Pestreniero, Festino, e lui dice io guardo a questi e rimango senza parole, perché questi sono riusciti a portare dal nulla, dall'America fondamentalmente e dall'Inghilterra, una cultura che non esisteva in Italia. Ci sono riusciti. Adesso, però, tutto questo è morto. Cioè, questo è un de profundis, ragazzi, è un de profundis sul genere che non arriva in Italia a grande pubblico perché ci sono barriere mafiose fondamentalmente, perché non abbiamo la cultura del merito reale. Questo dice Quizzi. Insomma, è un libro che ti rinforza un po' quell'impressione lì, ma chi cacchio me lo fa fare? Chi cacchio me lo fa fare? Non siamo in America. Qui se scrivi non vieni pagato, neanche se il tuo racconto è fantastico. Te lo pubblicano, ma non vedrai un soldo di anticipo. Mai. Non c'è la filiera. Non c'è. Perché non c'è pubblico. Perché non c'è la volontà. Quello che volete. Ma, insomma, a volte, a volte si rimane molto amareggiati. E a volte si ha proprio ragione di rimanere amareggiati. Quindi, se scrivete, se scrivete in quel sottoscala, se siete anche bravissimi nel farlo, usate e usiamo il cervello. Qua bisogna trovare sicuramente nuovi modelli. Sì, poi magari il colpo di culo. Magari uno pubblica, magari ne fanno un film, magari va tutto bene. Ma ragazzi, siamo in Italia. Mariana Equizzi. Volare, cantare. Si canta molto, ma si vola molto poco. E lo so che questo è un video un po' pesante. È così. Ciao a tutti da Broken Stories di Flavio Troisi.